Sì, siamo arrivati all'ultimo venerdì di questo settembre, quindi il venerdì dei venerdì, se ci pensate, il venerdì del primo mese di programmazione di Good Morning Milano, l'ultimo venerdì del punto di programmazione, ma anche l'ultimo venerdì del primo mese di lavoro, di rientro alle vacanze. Se l'avete fatta, ritrovare il ritmo. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono le 7.10, oggi appunto è venerdì, venerdì 27 settembre, ultimo venerdì di settembre, che lo passiamo comunque qui in compagnia vostra, che potete al 3317853555 raccontarci quello che avete in serbo per oggi o per il weekend. Insomma, sta arrivando il weekend, quindi chissà quante cose avete già programmato, ditecelo, il numero di WhatsApp è quello, ve lo ripeto, 3317853555. Oggi invece cosa avete in programma di fare? Dove state andando? Siete già in giro? Siete ancora a casa? Vi state svegliando in questo momento? Beh, allora buongiorno ancora a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Oggi andiamo avanti, come sempre, fino alle 9, ospiti tanti quest'oggi, perché abbiamo Eri Bicoli, i suoi eventi della settimana a cui non andrebbe, ma abbiamo poi dopo con noi un ospite interessante che, oh, ha detto così sui social, Oggi si toglie dalle scarpe un bel po' di sassolini, così ha detto. L'ha detto lui? Ah, l'ha detto lui, quindi io voglio vedere davvero che cosa si toglierà. Noi siamo già pronti qua con paletta e secchiello, anzi abbiamo preso la vanga e abbiamo chiamato una betoniera pronta qua fuori a portare via poi tutti i sassolini che si toglierà dalle scarpe. Chi? Il nostro Angelo Mazzone, che sarà qui a raccontarci tutto quello che, insomma, un po' così, quest'estate l'ha un po' allibito nella gestione di Milano, anche la gestione dei ciclisti con Vittorio Feltri di queste ore, insomma, racconterà la Milano, quella Milano un po' che amiamo tutti quanti, no? Chiamiamo io, chiamate voi, chiamano loro, insomma, quella città chiamano tutti, anzi, meglio dire, everybody! Everybody needs somebody to love the Blues Brothers, inizia così la nostra puntata di oggi, lo inizia con un weekend, appunto, che si avvicina, come ci dice anche Alberto, che ci scrive al 3317853555, dice un saluto a Fabio e alla redazione, a tutti i cristallini, buongiorno anche a te Alberto. Arrivati al weekend anche questa settimana, weekend impegnato e impegnativo, mi piacerebbe riuscire però ad andare al lobby, Moda all'Expo a Novego, ah che bello quel posto, mamma mia che bello, e sì, è una mostra mercato, possiamo chiamarla così, ma comunque a Novego, modellismo, tutto il modellismo possibile e immaginabile, anche i miei amati trenini, quindi insomma, sì, anche a me piacerebbe tanto, facciamo una macchinata e vediamo di farla. Comunque, dicevo, settimana, fine settimana, week, weekend, week, green week, green week, leggo da Repubblica, il patto per il clima, guarda al 2030, promuoviamo ricerca e innovazione. Fino a domenica ci sono appuntamenti sul tema ambientale, sul tema ambiente, il costo dell'operazione emissioni zero per Milano è di 6 miliardi di euro, così si stima, l'obiettivo più simbolico che realistico è la neutralità climatica nel 2030, l'ambizione tutta europea e Milano, insieme ad altre 8 città italiane e 100 oltre confine, ha deciso di mettere il turbo alla transizione. Appunto, appuntamenti durante la settimana, durante il fine settimana, a Milano per questa green week, raccontata e spiegata in pompa magna dalle nostre istituzioni, con in primis ovviamente l'assessore al verde, Grandi, Elena Grandi, appunto, che ha presentato i vari appuntamenti della green week, ma non c'è solo la green week perché, e leggo un comunicato che è arrivato in redazione in questi giorni, la rete dei comitati della città metropolitana di Milano, i comitati per il trasporto pubblico con il movimento Aspettami e il comitato Olimpiadi Insospettabili hanno sentito il dovere civico di organizzare invece la fake week in risposta alla green week, appunto, 26, 27 e 28 settembre, quindi da ieri, oggi e domani, appuntamenti in giro per la città anche in questo caso al grido di, diciamo, basta alle fake news riguardanti soprattutto a questo, insomma, a questo olezzo, mi verrebbe da usare come parola, di greenwashing che spesso e volentieri si vede in certe modalità anche dalle nostre istituzioni, quindi, insomma, è interessante la fake week, organizzata appunto dai comitati che vi ho detto poco fa, ieri hanno già fatto un incontro in Lago Cairoli dove si parlava di trasporto pubblico, quest'oggi in Piazza Mercanti, alle 17.30, un interessante incontro che ha a che fare con il consumo di suolo, pensate che secondo un dato Ispra c'è un aumento del 24% anno nel 2022 nel utilizzo appunto del consumo di suolo, quindi una Milano che dice da una parte di non voler consumare suolo, ma poi comunque appunto nel 2022, quindi dati comunque di qualche anno fa, quindi chissà adesso, era più il 24% anno il consumo di suolo. Invece sabato, sabato 28 appunto alle ore 15, in Piazzale Lodi e poi ci si sposta in Corvetto, si parlerà di Olimpiadi, quindi Olimpiadi che per il comitato, il nome è abbastanza eloquente, Olimpiadi Insostenibili, questo è il nome del comitato, uno dei comitati appunto che fanno parte di questa rete, insieme appunto ai comitati per il trasporto pubblico, il movimento Aspettami, che credo siano quelli che hanno fatto anche il biglietto, non so avete visto quel bellissimo che gira a me, del do scheletro con in mano il biglietto dell'ATM che dice morto mentre aspettava, cioè il concetto era quello, che dà l'idea però insomma di come davvero ormai, forse pretendiamo anche troppo, perché poi ovviamente quando parliamo con chi viene da altre città dicono ma Milano funziona tutto, Milano è tutto bello, sì, pretendiamo tanto, però è Milano, cioè sappiamo che qui si può fare, quindi perché non pretendere, perché non sperare, che queste insomma week diventino qualcosa di un po' più interessante. Carol G, si antes te hubiera conosciuto, se solo ti avessi conosciuto prima, no? Se ti avessi conosciuto prima, eh beh se lo sapevo prima, come diceva Gaber, no? Eh se lo dicevi prima, se lo dicevi prima, eh ma se lo dicevi prima, eh se lo dicevi prima, eravamo qua a raccontare le notizie. Ad esempio se lo dicevi prima che c'era la Green Week, eh ti raccontavo prima della Fake Week ad esempio, no? Comunque, sempre rimanendo in tema green, perché poi il problema è, ok, diciamo che non si fa niente, poi però quando si fa qualcosa nascono i problemi poi, perché ad esempio, area B, torniamo su area B, lo leggiamo dal Corriere della Sera Milano, area B, nessuna deroga per le moto inquinanti, i divieti anti-smog restano, Salvini critico dice, meno ideologia, così non fa anche un po' come diceva milanese, dai, meno ideologia, così dice. Sul blocco di area B e C, alle moto a miscele gasolio Euro 2 e benzina Euro 0 e 1, si accende il duello tra Lega e la Giunta Comunale. Il leader del Carroccio, un'altra pessima notizia per la città. Capite? Questo è quello che nasce appunto da qua. Comunque, non ci saranno altre deroga di vieti per le moto più inquinanti, annuncia appunto l'assessore alla mobilità, Arianna Censi. Un'altra pessima notizia per la città, invece, è la bocciatura di Matteo Salvini. E alla fine Sala cosa dice? Ci penseremo. Quindi, come sempre, l'assessore dice, no, non cambia niente, non tocchiamo le deroghe, le moto che abbiamo detto prima non entrano nell'area B e area C. Quell'altro dice, Salvini dice, ah, ecco, non si può, sempre qua, pessima notizia per la città. E allora Sala dice, ci penseremo. Il tema della mobilità è da sempre argomento incendiario e sul blocco in area B e C, alle moto a miscele gasolio Euro 2, ripeto, benzina Euro 0 e 1, si accende quindi questo duello tra Lega e Giunta. L'assessore Censi porta avanti una tesi che effettivamente è abbastanza corretta, però poi bisogna capire quanto è facile l'applicazione. Dice, il calendario dei divieti è noto da tempo e c'è stata già una deroga e una proga a quel tema. Effettivamente le persone interessate avrebbero avuto modo di premuirsi, di cambiare il moto magari già nel tempo, di non prendere una moto usata l'altro ieri dicendo, ecco, adesso non posso più usarla. C'è da dire però che è vero, queste notizie erano già fuori, ma devi andatela cercare, devi andare sul sito del comune, devi andare nei siti di informazione, devi seguire noi per sapere che abbiamo oggetto chissà quanti mesi fa. Non è che è così semplice, cioè non è così alla portata di tutti e anche di chi magari con la portata ce l'ha anche, ma che magari fa altro nella sua vita che andare a cercare le notizie su quali moto posso entrare in area B o in RC. Forse sarebbero da mettere, ad esempio, il cartello di area B all'ingresso delle città, è completamente inutile. Perché voi vi siete mai messi lì a leggere cosa c'è scritto e a capire che adesso, aspetta che mi fermo un attimo, metto le quattro frecce, tiro fuori il libretto di circolazione e cerco di capire se posso o non posso entrare in quell'area. Ma l'avete mai fatto in vita vostra, secondo me, ma giustamente anche mi viene da dire, nel senso quando mai. E quindi dovete ricordarvi, oppure prima di venire a Milano, poi nascono le ansie. Io ho gli amici, quelli che vengono da fuori, mio nonno diceva vengono giù con la pina del naviglio, quelli lì che vengono da fuori che ogni volta mi chiamano, ascolta devo venire lì da te a San Siro, ma posso venire perché c'è l'area B, l'area C, cosa devo fare? Ecco, quindi se non è così chiara la comunicazione, caro Assessore Acensi, io capisco che lei dice il calendario di vieti noto da tempo, ma bisognerebbe forse riuscire in qualche maniera ad andare un po' verso i cittadini e spiegargli le cose prima, perché io sono d'accordo sul fare queste regole, firmare, non fare entrare, decidere sempre meno auto e sempre meno moto all'interno della città, va benissimo. Però è una città già cara, che è cara in tutto quello che fa, che è cara negli affitti, che non ha gli stipendi comunque parametrati a questa carezza, che in questo caso carezza lo userei bene perché è proprio una carezza in un pugno, come diceva qualcuno. 7 e 34 minuti, di nuovo qui in diretta su Crystal Radio, Good Morning Milano, è venerdì e vi diciamo cosa potete fare nel weekend, anzi, o meglio, vi diciamo cosa non fare nel weekend secondo Eri B. Buongiorno a tutti, in realtà la mia è una speranza che voi andiate a questi eventi, ecco, 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 ecco. Cioè io sicuramente no, però insomma, mi sono stupita, questa canzone di Calcutta si chiama Sorriso? Sì. Io ho sempre chiamato Milano d'Ateo. E tra parentesi, a Sorriso, tra parentesi Milano d'Ateo. Sulla? Sul passante. Sulla mappa onero, mamma, neanche un po' attento, neanche un po' attento. Allora, mi sono fatto un leggio quasi. Ah, vedi, brava, brava, brava. Allora, inizio con un evento di questa sera che tendenzialmente mi piacerebbe anche andarci, ma ho un altro evento. Stasera va ad un evento? Stasera va ad un evento, ve ne parlerò alla fine, però. Stasera, per tutti i nostalgici e tutti gli ex ragazzi degli anni Ottanta, c'è un bello Scaffest Tribune all'Hidroscalo, dove cantano i Blue Beatles, i Valanzasca e c'è anche un DJ set di Vito War. Vito War, grande! Cavolo, 16 euro per tornare nel tuo passato più recente, lo vorresti fare, vero? Sì, sì, sì. Lo sapevo anch'io, in realtà. Forse è una cosa che mi poteva interessare, ma al momento sono occupata. Quindi niente Vito War questa sera, però grande roba Vito War. Allora, domani, domani 28 settembre, c'è, l'avevamo parlato già l'anno scorso, un bel festival dove io assolutamente non ne andrò, un bel festival di bicocca tra botanica, musica, arte e sport, al BIM. Sai che cos'è il BIM? No, solo cos'è il BAM. Il BIM è dove bicocca incontra Milano. Ah, però! Super, super mi viene da dire. Adesso vi voglio dire, ma perché ci dobbiamo inventare queste cose? Giustamente tu dici, io sono stufo di tutto quello che finisce con me. Sì, anche con WIC ultimamente. Le WIC ci escono non solo dai capelli e dalle orecchie e adesso anche il BIM, ragazzi, ma che bellezza, ma che bellezza. Manca il BUM, perché il BIM c'è, il BAM c'è, ma il BIM BUM BAM. Sì, infatti, facciamo BIM BUM BAM e ritiriamo fuori One e fuori e andiamo avanti. No, l'ho rubato One, ti ricordi, mi avevo dato questa notizia. Sì, l'avevo dato io a Trendy. Allora, sono anche uscita dalla città. Ulla, sei anche andata fuori da Milano. Sono andata fuori da Milano, per l'esattezza, a San Martino Siccomario, che è in provincia di Pavia, ma chi se ne frega, perché unisce due cose che non mi piacciono. Cioè? Dal 27 al 29 settembre c'è la festa della birra, io non bevo la birra, nel campo di zucche. Ma raga, era necessario. Cioè, sta arrivando il mese di ottobre, io mi preparo al festival della birra ovunque e ste cavolo di zucche che sono arrivate. Mangiatele, non è necessario fare soltanto shooting, perché alla fine andate a fare soltanto shooting. Mi ricordi Mario Giordano quando prese a Mazzate la zucca dicendo io Halloween non lo voglio. A me non me ne frega niente, a me Halloween ancora mi piace. È che la zucca è buona da mangiare, ma chi se ne frega, fate una foto una volta e basta. No, tutti sti bambini, sti campi di zucche, ma che palle. Tu non hai foto con la zucca. Ma ci mancherebbe, ma perché dovrei fare una foto con la zucca? Adesso andremo a cercare nel tuo Instagram se non salta a fare la zucca. Poi, una mostra che forse piacerebbe a te. Eh. Cos'è? Non lo so. Ah, scusa. Pensavo l'avessi già capito. Dal 17 settembre al 17 novembre a Palazzo Reale c'è la prima grande mostra dedicata ad Allegria. Mike, buongiorno. Bellissima, c'è stato il mio amico Paolo Iabichino, è stupendo. C'è anche la ruota della fortuna, la ruota della fortuna. Gira, gira, gira. Sì, no, quello non c'è. Cos'è la ruota? Quello, sì, quello sì. Cos'è la gira-gira? No, 100, 100 è una cosa, Zanichi. No, 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 ok, il prezzo è giusto. Il prezzo è giusto. Ok. Quanto tempo ha ancora? Ancora, vai. Ancora? Allora, Luca, su quello lo tengo per ultimo perché è divertente. Ah, un'altra mostra dove sicuramente tu vorrei andare. Eh, va bene. Allo Scalo Farini, dal 7 di agosto al 27 di ottobre si può salire sul Titanic e costa solo 18 euro per gli adulti. Però dicono che è fatta molto bene. No, mi hanno detto che è fatta molto bene, conosco anche persone che ci sono andate, ma io non ce la posso fare. Cioè, tutte le volte che penso al Titanic, penso alla gente che c'è morta dentro. Vabbè, ma cosa ridi? Sto male, quando sono andata a vedere Titanic, che avevo tipo… Sto male e ride, capito? 13, 14 anni, tutti piangevano per la storia di amore, io piangevo per quei poveretti che si erano ammazzati per colpa del Titanic e per colpa di un cretino. Quelli che suonano. Oh, poverini che tu stessi. Che continuano a suonare nonostante… Ah, questo l'ho detto, questo l'ho detto. Ok, posso andare avanti? Sì, prego, ma oggi ti lascio andare avanti, vai. Si parla di week, cosa poteva non mancare in questa città? Cosa poteva non mancare? La Milano Beauty Week! Oh, meno male. Tra l'altro vi dico anche questa cosa, ci sono anche degli eventi su tram. È bello, sai che io mi piacciono i tram a me. Ho capito, non è che Erika può comprare un biglietto per andare a fare una cosa del genere, sai chi è che ci sarà su questo tram? Chi? Chi influencer! Ma che fatti ti danno a te se non ci vai? Che balle! Eventi gratuiti in città, ovviamente è un evento diffuso, ovviamente. C'è il tram della bellezza, 25-29 settembre, gratis, andate su www.minanobeautyweek.it Ne avevamo veramente bisogno, grazie. Prego. Forse è l'ultimo, aspetta che devo fare un attimo un recap. Te le scrivi e poi non riesci a leggere, qual è il problema? Allora, sono pronta per quest'evento che si chiama Dolce Autunno a Trenno e noi siamo abitanti quasi di trenno, è tutto molto bello. Domenica, dalle 9.30 alle 18, è tutta la descrizione che mi piace, al Parco di Trenno, esibizioni coinvolgenti e via di shopping di tutti i tipi, attori che regalano abbracci e poesie e laboratori per grandi e piccini. Non ci vado? Ve lo dico di già perché c'è la cosa che più detesto al mondo. I piccini? No. Ah no, ok. Regalano abbracci. Io non voglio essere toccata da nessuno. Ma non è che ti obbligano, cioè se lo vuoi… Non mi interessa, se sto camminando e uno mi vuole abbracciare, io gli tiro qualcosa addosso, il basso è questo. Ma non credo che sia… Cioè non è agguati nel parco. Allora, io vi chiedo questa cortesia, cari amici di Cristal Radio. Vi prego, domenica dalle nove e mezza alle diciotto, magari non piove neanche, andateci e poi lunedì mandate un messaggino a Fabio per capire com'è stato. Io ovviamente non ci sarò perché ho paura, ma di base a voi potrebbe piacere. Hai paura di che cosa? Degli abbracci. Degli abbracci, va bene. Ma poi magari ci sono pure i clown, raga, state attenti, attenti. Vabbè, ok, abbiamo capito che insomma qualche trauma non sviluppato c'è. Ma tu vai a una festa e vuoi essere abbracciato dalle persone. Se vado lì apposta, sì. Questi sono al pari di quelli che abbracciano gli alberi. Ecco, benissimo, ci siamo fatti amici anche quelli che abbracciano gli alberi, va bene. Grazie mille. Grazie mille sempre per farmi essere qua. Prego, va bene, prego. Quanti lunedì mancano? Un paio, forse. Non questo, il prossimo prossimo, ok. Sì, sì, perché adesso MM va in Giappone. Ok. Quando torna dal suo Giappone con la sua valigia di cartone, ci risentiremo. Ok, tutti i lunedì sera. Tutti i lunedì sera tra le 20 e le 21. Su Crystal Radio appunto con... E si mangerà poi tardi. Trend Me. Vabbè, potete mangiare durante. Già che fortuna è una cosa, mangiate durante la trasmissione, no? Sì. Potrebbe essere un'idea. Potrebbe essere un ASMR. Ah sì, vedi? È vero, è vero, è vero. Vabbè, non voglio sapere cosa mangiate però. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui subito. Good Morning Milano su Crystal Radio. Fino alle 9, 96.2 FM Dub Plus, l'applicazione per iOS Android e anche il sito goodmorning.milano.it per rivedere e ascoltare tutto quanto. Pensate voi, anche le castronerie che dice Eribie. Ebbene sì, ebbene sì. Musica adesso, baby. One more time. 7.46 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. Siamo qui che stiamo già parlando con il nostro prossimo ospite che è già arrivato, però ve lo non vi anticipo niente. Sapete benissimo di cosa parleremo nella seconda parte di trasmissione, ma appunto sarà qua con noi fra pochissimo Angelo Mazzone di Milano Segreta. parleremo sì della Milano Segreta, ma soprattutto della Milano che è un po', come ha detto nei scorsi giorni, mi toglierò qualche sassolino alle scarpe, così ha detto Angelo. E quindi oggi siamo pronti a vedere quanti sassolini e come se li toglierà e capire appunto come mai questa Milano, insomma ogni tanto anche chi l'ama tanto, è Angelo l'unico di quelli che l'ama davvero davvero tanto. Però fa un po' girare i sassolini, diciamo così, dai. Galantis Runaway, 7,50 minuti. Mi spiace che è andata via Eri B, perché è arrivato un Whatsapp di Nello che conferma che alla festa qui a Trenno, oltre agli abbracci, si possono anche abbracciare gli alberi. Quindi è confermato che c'è anche quella parte lì. Adesso scriveremo un Whatsapp a Eri B che è andata via, perché così magari cambia idea, visto che ha paura di ricevere gli abbracci, però magari non ha paura di abbracciare un albero, anche se mi sa che no, rimane comunque sulla lista nera e sul non c'andrei da parte sua. Come invece, stiamo parlando di Milano, stiamo leggendo un po' di notizie, Corriere della Sera c'è un'intervista, l'ennesima intervista a Sala, dove a margine dello stadio di San Siro, no, non sto zitto, continuerò a parlare, continuerò a dire la mia, anche se, sindaco, facciamo un po' fatica a capire qual è la sua, non capiamo, allora, in realtà lei la dice la sua, sono d'accordo con lei, il problema è che non riesco a capire come mai noi non riusciamo a capire bene cosa dice, cioè è questo, molto bene siamo noi il problema a questo punto, viene da dire, però non si riesce bene a capire, la direzione è molto variegata e varia. Comunque viene fuori un altro dato invece dalle ultime uscite e esternazioni del sindaco, che le elezioni comunali di Milano saranno quindi nella primavera del 2027, così è stato detto, quindi insomma si è capito finalmente quando si andrà a votare, quindi primavera del 2027 a scadenza di mandato, più o meno regolare appunto, però nella primavera e non nell'autunno perché c'erano anche questi dubbi, e quindi primavera del 2027 le elezioni amministrative appunto del Comune di Milano, insomma questo è quello che stiamo leggendo da Corriere della Sera Milano, tante le notizie che ci sono, tantissime, 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 tantissime notizie appunto, che oggi vi racconteriamo anche poi nella seconda parte, anche se appunto come vi dicevo, fra poco Angelo Mazzone qui con noi. Eh sì, Drive My Car e BB Yeah, quello è il suono del clacson, il suono del clacson che spesso e rientri si fa quando si passa di fianco ad Angelo Mazzone per salutarlo, ciao Angelo, per salutarlo, non per fare altro, per salutarlo, toccheremo anche il tema ciclisti perché… Non li mettete sotto come… Ecco, te l'ho alzata apposta perché appunto parleremo anche di quello, tu Angelo ieri o l'altro ieri hai fatto un posto dove dicevi che saresti venuto qua e hai detto e mi toglierò un po' di sassolini dalle scarpe, noi siamo pronti, un camion fuori pronto di quelli da cantiere per riempirlo quando vuoi, va bene? Ok, poi dopo io e Bea ci passiamo di qua con il secchiello e la paletta e portiamo fuori tutti i sassolini che ti togli. Angelo Mazzone, Milano Segreta, buongiorno Angelo ancora. Milano Segreta è ormai un'istituzione milanese, da che anno è che l'è diventata? È dal 2014. Dal 2014 fai conoscere, racconti, fai scoprire Milano, no? Noi ci occupiamo più che altro di sviluppare tour turistici un pochino più di nicchia, che non siano il Duomo, la Scala, facciamo anche quello, ma ci occupiamo appunto di percorsi un pochino più di nicchia. Un esempio? Così se posso per capire un po'... Ma, non lo so, te ne posso... La Certosa, ad esempio, adesso poi abbiamo preso affare... Quindi non solo in centro, ma anche fuori? No, assolutamente. Io poi, questa è una cosa che ci tengo tantissimo, a me piace fare scoprire soprattutto le periferie, perché le periferie sono spesso sottovalutate, ma sono assolutamente piene di luoghi e di opere d'arte, che spesso sfuggono anche a chi ci abita. Tante volte mi capita di avere delle persone che magari vengono in tour con me, che abitano nel quartiere e mi dicono, ma pensa, abito qua da tanti anni e non conoscevo la storia di... o non conoscevo questa chiesa, non c'ero mai entrato. E praticamente ovunque c'è roba a Milano, perché davvero c'è... Ma a Milano, sai, è molto strano in questo, perché io dico sempre, a differenza di Roma, di Venezia, di Firenze, di Napoli, ovunque ti giri, la bellezza, cioè, è facile, si mostra. Milano in questo è totalmente diversa, perché se non hai di base una curiosità, proprio perché è tutto nascosto, è tutto dentro i cortili, è tutto segreto, è dentro delle chiese, è dietro i portoni, se non hai di base la curiosità per voler davvero conoscere la tua città, non è facile da amare. Milano nasconde la sua bellezza, Milano nasconde la sua bellezza, e invece Angelo vi aiuta a scoprirla e a trovarla. Però Angelo è anche uno che insomma la città la vive... io credo che tu sei uno che la vive tanto questa città, dalla parte all'altra, da mattina presto fino a sera. Fino a sera, con la tua bicicletta, con la tua copilota, con la tua copilota nel... Sì, con Deva. Come si chiama? Deva. Deva, che è un... Che marca è? Ah, con le Yorkshire, che è un Yorkshire, sempre nel cestino, che ti dice vai di qua, vai di là, secondo me ormai è meglio di Google Maps. Mi oriento con il suo sguardo. Infatti, complimenti a Deva. Insomma, vivi proprio la città, ed è quello che poi un po' ti fa arrabbiare quando invece si... Secondo te si vede una narrazione tossica, verrebbe da dire, giusto? Della città. Assolutamente tossica. Ho segnato un po' di temi. Da quale vuoi partire? Da dove vuoi? Devo dire che mi sono innamorato del tuo modo di tirarti fuori i sassurini dalle scappe quest'estate, quando a un certo punto anche contro la curia ti sei incavolato. Sì. Perché cosa è successo? Ma allora, in realtà... Così rimaniamo ancora legati un po' al tuo lavoro, poi dopo ci allarghiamo. Ma allora, in realtà è una cosa che non è successa adesso, nel senso che è da sempre. Ok. Nel particolare, vabbè, io in quell'episodio mi riferivo a quello che sta succedendo in Duomo, perché si sta tendendo, la fabbrica del Duomo sta tendendo a mettere i bastoni tra le ruote a tutte le guide che non fanno parte della veneranda fabbrica. Quindi hanno aumentato il costo dei biglietti, c'è tutta una procedura adesso da fare per entrare, di registrazioni, pagamento anticipato, dei ticket, cioè tutte cose che fino all'altro ieri non esistevano, perché tu andavi lì con il gruppo, bastava prenotare, e entravi e pagavi per quanti erano. Invece adesso è tutto molto più complesso. Sì, che cascata vuol dire poi che tu devi fatti pagare in anticipo, ma che non è facile, che non è facile per la gentilità, non so se vengono, assolutamente. Questo vuol dire anche aumentare il costo dei tour, e capisci che questo non va bene, soprattutto perché stiamo parlando comunque del Duomo, sì, è vero, ma è comunque una chiesa, per quanto noi la vediamo come luogo d'arte, come monumento, è comunque una chiesa che è giustissimo, attenzione, perché sono assolutamente d'accordo e sono assolutamente a favore del far pagare un ingresso quando si entra, soprattutto in determinate chiese, perché costa. Il punto è quanto me lo fai pagare, perché capisci che se mi fai pagare adesso 15 euro per entrare in Duomo, uno ci rimane un attimino così, no? Costa, forse meno andare al Museo dello Storio di San Siro, credo. Per assurdo, ce l'ho sto pensando, quindi insomma effettivamente. E quindi questa cosa secondo me è diventata, ecco perché io poi, sai, la curia, non so chi sia a capo di questo, chi abbia preso queste decisioni. non credo che sia l'arcivescovo che a un certo punto dice alziamo i biglietti di non credo sia direttamente lui. Però... Angelo sa cose che noi non sappiamo forse, noi non voglio... No, 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 è che di base mi viene da pensare, no? Che qualcosa c'entri, perché... Siete lì, cioè... E appartiene alla fabbrica, a venerando la fabbrica, quindi... Sì, 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 chiaro, chiaro, chiaro. Ebbene, insomma, infatti mi ha colpito appunto questo tuo modo di comunque non star lì ad aspettare, non mandarle a dire, ecco, nel senso... bello diretto e le spieghi molto bene. Poi appunto, questa questione poi ho sentito che ci sono comunque anche altri tuoi colleghi che hanno mosso queste critiche al sistema... Esatto, c'è stato un... Perché effettivamente qui diventa da una parte per noi magari un costo elevato, ma anche per voi una difficoltà del lavoro invece nelle guide turistiche assolutamente registrate, anche perché... Aspetta, Angelo, che la mamma qua, guide turistiche registrate con il patentino e tutto, perché non è che chiunque si sveglia la mattina può fare la guida turistica. Esatto. Lo dico a quelli che mettono l'experience da qualche parte. Sì, ce ne sono tanti, però non lasciamo perdere questo argomento. Sennò poi dopo sono troppo antipatico. No, è che... Tu manda avanti Deva. Non c'è vero, capito? E lei che ti bate l'antipatico, mazzone. Però Deva canta carina. Capito? Tac, vedi subito si può... Ti tiri su, vedi su. Sembra che davvero si voglia fare di tutto per... Ma io questo lo vedo anche quando ho bisogno di prenotare piuttosto l'ingresso a Palazzo X. Cioè, sembra che davvero si voglia incentivare a mandare avanti solo le grosse compagnie. Non voglio fare nomi nello specifico. È come quando si acquistano i biglietti per il cenacolo. Cioè, tu hai mai provato ad acquistare i biglietti Vuoi sapere una cosa? Sai che non ho mai visto il cenacolo per quel motivo? Bravo. Non sono mai riuscito ad andare al cenacolo ma alla fine non ce l'ho mai fatta. E allora vieni con noi. No, vedi, non ce l'hai mai fatta. Perché? Perché è difficile. È diventata un'odissea. Sì. Perché? Perché praticamente danno in blocco grossi numeri di biglietti a tutte queste grosse compagnie e quindi tutte le altre guide turistiche, diciamo, più piccole, come me, vengono scartate. Ovviamente le grosse compagnie pagano di più, comprano di più in blocco. Un po' come se fossero i biglietti degli aerei ormai. Sì, sì. Ormai funziona un po' un po' così. Alla faccia da piccola e media impresa mi viene da dire. Nel senso, ecco, è comunque... Angelo, ne abbiamo tanti di questioni perché poi appunto abbiamo fatto la battuta sulle biciclette, sul fatto che se passate vedete Angelo è meglio vederlo sulla bicicletta e non come invece Feltri si spererebbe. Ma parliamo anche di sicurezza che è un altro tema a te molto caro. del lamento anche generale che c'è un po' in questa città che insomma non... Me ne vado da Milano. Milano non è più quella di una volta ma ne parliamo fra pochissime. Prima ci ascoltiamo un po' di musica. Sto parlando dell'ultima, la nuova... Appena uscita da qualche settimana appunto di Lady Gaga e Bruno Mars. Capolavoro dicono tutti. Allora ascoltiamocelo. Sono le 8 e 14 minuti qui su Crystal Radio. Good Morning Milano Lady Gaga e Bruno Mars die with a smile. Lady Gaga e Bruno Mars die with a smile. 8 e 19 minuti e al 331-7853-555 è arrivato un bellissimo Whatsapp che non posso non leggere. Good Morning Milano da quella di Bergamo. Oggi vi ascolto con l'ansietta perché tra qualche ora avverrà ciò che pianifico da mesi. Che cosa? siete il sottofondo della mattina del mio matrimonio. Che bello! Un applauso, un applauso lo faccio. Anche Angelo. Un applauso, auguri, 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 auguri allora a tutti quanti gli sposi e gli sposi e tutto quello che sta succedendo a Bergamo. Auguri. Comunque Angelo, allora non fatti addolcire da questo messaggio perché... Ha visto che ha cambiato chi ci sta seguendo in vita ha visto che la fisicità ha cambiato. No. Ecco. Allora, tema Feltri. Allora, ieri è uscito con questa bella uscita che... Insomma, siamo abituati alle provocazioni. Questa volta forse però un po' esagerata questa provocazione. No, non la definirei, Fabio, una provocazione perché io amo le provocazioni. Io vivo di provocazioni, sono il primo provocatore, ma una cosa del genere non è da definire come provocazione perché una provocazione non può augurare la morte di una persona, chi che sia. Io i ciclisti mi piacciono solo quando vengono tirati sotto, come quando vengono investiti. Capisci che è una bestialità da dire soprattutto perché stiamo parlando di persone che davvero ci sono rimaste. Una città in cui è successo. Soprattutto a Milano perché appunto vuoi perché mancano le ciclabili, vuoi perché alcune ciclabili non sono sicure, quindi fare una battuta del genere è veramente di cattivo gusto. Noi una volta abbiamo fatto una puntata anzi perché poi tra parentesi fa qualche giorno ricorre ancora l'anniversario di quel famoso bambino ahimè famoso Giacomo che nel 2011 il 5 novembre 2011 in via Solari finì sotto il tram proprio semplicemente per una macchina postaggiata in seconda fila che ha aperto la portiera e quel punto poi è terribile non ci vuole neanche pensare. Tu sei uno che la città la vive in bicicletta quindi sei uno di quelli a cui tutti i giorni insomma ti avevo preferito vedere sul pavimento insomma capisci che stiamo parlando di una persona che paghiamo con i nostri soldi perché non dimentichiamo che Feltri è in regione non è più solo giornalista ma è un consiglio regionale cioè capisci io potrei aspettarmi una battutaccia perché la voglio chiamare così da da un X da un X che dico una stupidaggina alla radio ma da una persona che ha comunque un incarico politico che ci rappresenta ma mi dispiace ma non è non è proprio neanche non dovrebbe neanche essere concepibile però anche qui è dimostrato che sei un po' diverso dagli altri sui social perché non hai semplicemente fatto il tuo post l'hai fatto dicendo una bestialità ma come si fa ma poi hai fatto altro hai scritto una mail sì assolutamente e hai invitato tutti e hai invitato tutti a mandare la stessa mail è già scritta potete solo esatto cosa hai chiesto in questa mail e come l'hai chiesto in sostanza le dimissioni proprio per il fatto che non riesco a concepire che una persona di quel livello anche perché adesso io non è che voglia sparare su Feltri Feltri è stato un grande del giornalismo negli ultimi anni ci ha abituato a fuoriuscite davvero infelici quindi sarebbe il caso che forse questa persona come posso dire non vorrei risultare offensivo ma ci sia qualcuno che lo faccia ragionare che gli dia un attimo un fermo un blocco perché non si può dire qualsiasi cosa a uno gli venga in testa la Florida è un bel posto dove andare a svernare capisco la libertà di parola io sono il primo l'abbiamo detto l'hai detto anche tu poc'anzi a me sono uno che non ha peli sulla lingua però ci sono certe cose che non le puoi dire non puoi permetterti di dirle proprio perché stiamo parlando ripeto di una persona che è in regione Lombardia no e quindi niente poi ho fatto questa mail questa mail è diventata virale so che l'hanno mandata io adesso non lo so perché mi hanno detto che sono state migliaia di persone ecco questo è un altro tema che volevo capire i social insomma tu sei uno che spesso mi dirà di critica molto perché insomma passano storie un racconto tossico della città insomma tutto questo ma in realtà è anche un luogo però molto interessante per quello che riguarda la tua community perché poi in realtà sei molto seguito ma soprattutto c'è una grande interazione e tu dai molto spazio anche alle testimonianze che ti scrivono assolutamente sì credo di per sé che i social siano appunto diventati tossici nel senso che qualsiasi cosa uno apra se vedi sotto è un continuo gettare fogna su ogni giorno su qualcuno su qualcosa proprio per questo io ho adottato la politica di chiudere totalmente disattivare totalmente i commenti ok proprio per evitare anche che persone esterne che non mi seguono e che non mi conoscono vengano a gettare la loro frustrazione quotidiana quindi ho disattivato i commenti proprio perché preferisco un contatto più diretto con le persone però hai lasciato i messaggi aperti assolutamente infatti chi vuole comunicare esatto chi vuole comunicare con me lo può fare tranquillamente scrivendo un messaggio senza la platealità perché spesso è di quello che ci si fa forza la platealità a delle persone e invece no t'ho fregato se vuoi scrivere qualcosa me lo dici in privato sono io a decidere se divulgarlo o meno e funziona soprattutto per le belle storie proprio perché poi la gente ti racconta anche delle cose belle ti racconta condivide poi cioè condivide con te tendo soprattutto a raccontare quelle storie sì come appunto l'altra sera proprio sulla questione sicurezza infatti sulla sicurezza hai fatto una questione soprattutto partendo da credo fosse un influencer che aveva fatto un posto che parlava appunto che ormai Milano per le donne è invivibile non si può più uscire alla sera c'era questo video è il video sì giusto di questa ennesima influencer che si era lamentata giustamente che sul treno l'avevano gli avevano fatto degli avanzi un po' spinte che poi anche lì non si capisce lei ha detto tre fermate prima di Saronno tesoro se la geografia è ancora geografia tre fermate prima di Saronno non è Milano sei in provincia di Varese quindi questi sono saliti in provincia di Varese perché metti Milano perché metti di mezzo i trasporti pubblici a Milano perché va a dire interessante quando tu dici che quelle cose non è che non succedono anzi succedono e come e come ma è inutile però parlarne tirando in ballo Milano così tanto per succede una cosa il fatto della sicurezza sui treni punto esatto succede una cosa a Bergamo a Varese e Milano non è che è tutto Milano a me questa continua narrazione appunto tossica su Milano mi ha stancato mi ha rotto ok perché non è possibile una città dove sicuramente ripeto dobbiamo partire dal presupposto che le città sono delle giungle ok se tu vieni a vivere in una metropoli sai benissimo dove stai andando a vivere e sai benissimo che possono accadere cose come accadono perché io non è che nego che non ci sia un problema di criminalità noi prendendoti in giro infatti abbiamo fatto la stessa immagine del tunnel in stazione centrale come la vede Milano da bella da dio che praticamente è un pezzo di favelas e come invece la vedete con i cuoricini gli orsetti tutto così che poi io infatti ti ho detto non è che la vedo con i cuoricini cioè la vedo per quello che è normale stazione nel senso che mi fanno ridere anche quelli che mi vengono a dire Milano è diventata pericolosissima come le classifiche che Milano al prima ma le leggete queste classifiche la classifica è data in base al numero di denunce non di crimini perché non è possibile contare i crimini in base alle denunce anzi vedendola dall'altro lato una maggior come si dice un maggior numero di denunce equivale ad un maggior numero di senso civico perché vuol dire che si denuncia la qualsiasi cosa se non siamo ancora arrivati forse a quel punto dici me non denuncio tanto non serve a niente ad esempio e quindi denuncio perché comunque ho ancora un po' di speranza perché si denuncia cioè io ad esempio ti faccio un esempio stupido quando mi hanno rubato più di una volta ormai la bici qui a Milano io sono andato a denunciare cosa che quando vivevo in Puglia non ho mai fatto perché vabbè dici me l'hanno fregata tanto chi no chi la ritrova chi cioè è la mentalità quindi se vogliamo ripeto vederla dall'altro lato equivale a maggior senso civico poi ripeto nessuno dice che Milano non abbia un problema come quelli che mi vengono a dire Milano è diventata appunto pericolosa Milano è sempre stata pericolosa ma da sempre l'abbiamo scoperto solo adesso invece l'abbiamo scoperto con i social adesso esatto perché perché c'è questa continua narrazione questo continuo riportare sempre e solo storie del genere tramite i social questo è diventato tossico e infatti vedi pagine come non voglio fare il nome che sono diventate la fatta prima io mi spiace sono diventate virali in base a cosa in base ai crimini che riprendono in video altrimenti di che cosa parleresti non vorrei fare l'avvocato del diavolo però effettivamente però quella Milano stiamo parlando di Milano bella da dio lo possiamo dire ad esempio perché è una delle perché non è la più famosa ci sono anche altre che cercano di derivare ma posso dire una cosa però faccio un attimo l'avvocato della parte che anche se non hanno bisogno in realtà loro ad esempio non fanno i video cioè li mandano i cittadini i cittadini continuano a condividere con loro questa modalità allora è proprio per quello che dico narrazione tossica perché ci siamo abituati a questo genere a questo modo di vedere Milano ok allora se io mando a te un video io adesso ti faccio un esempio stupido qui fuori due si menano no io li prendo in video e te li rimando non sarebbe anche una cosa così strana che succede ogni tanto succede quindi è lì proprio di base capisci che è sbagliato perché perché questa cosa allora perché questa cosa questo video che io ti mando di questa cosa brutta deve diventare virale e non può diventarlo un video che ti mando di una cosa bella perché deve essere concentrato tutto solo sulle cose brutte cioè questa città ha solo dei difetti avrà pure delle cose belle se tutte le persone ci vengono a vivere perché dobbiamo narrare e raccontare solo quella parte di Milano perché ormai è questo che è diventata e tu dici queste pagine social raccontano solo quella parte non c'è spazio d'altro mi sembra che ogni tanto qua cosa fanno non fanno vedere cose no no dici che non basta non basta dici ah ok va bene però non è tutto rosa fiori e cuoricini comunque no assolutamente no ma ripeto non lo è mai stata a me ad esempio scrivono tante volte testimonianze di persone di una certa età che paragonano davvero Milano che vivevano loro degli anni sessanta settanta ottanta quando in parco Sempione non ci potevano neanche entrare in tutti i parchi non ci potevano entrare perché erano veramente off limits a terra di nessuno siringhe per terra sappiamo gli anni di piombo quello che è successo c'era il coprifuoco a Milano dove davvero non potevi uscire la sera cioè quindi no io faccio un confronto e dico ma davvero cioè stiamo parlando davvero stiamo mettendo a paragone la realtà di oggi con la realtà che è stata fino a qualche decennio fa chissà se ci fossero stati social all'epoca succedeva bravo un po' di musica poi torniamo qui sempre con Angelo a parlare anche di quelli che hanno deciso che invece da Milano me ne voglio andare continuo a dire che basta me ne vado da Milano eh vai va bene avete capito di cosa parleremo dopo Jennifer Lopez on the floor Ivano Fossati la mia banda suona il rock invece che musica suona la banda di Milano Segreta che musica suona la banda di Milano Segreta un po' di tutto un po' di tutto è una jam session sì un po' allegra spensierata allegra spensierata come appunto com'è Angelo Mazzone ma che poi quando lo fate arrabbiare giustamente tira fuori tutto il suo tutto il suo essere pugliese per dare la dire oh ci sono questi qua che continuano ormai mi ha tirato in mezzo e continuano a dire me ne vado da Milano Milano non è più quella di una volta basta me ne vado sì vabbè ma allora in realtà anche qui come un po' il discorso della criminalità se stiamo a vedere lo è sempre stata sappiamo benissimo che già a partire dagli anni 60 fino agli anni 80 c'è stata la grossa migrazione dei milanesi verso la famigerata Brianza che si andavano a fare le casette le villette in Brianza perché perché Milano già all'epoca aveva un mercato immobiliare fuori controllo e quindi preferivano investire meno soldi su case più grandi appunto andando fuori da Milano la famosa Brianza velenosa è la storia che si ripete è la storia che si ripete sempre anche qui quindi non è che ci siamo svegliati adesso in questi anni a scoprire che il mercato immobiliare di Milano che poi anche qui in realtà il mercato immobiliare è impazzito non solo a Milano Milano fa un po' da portavoce in questo ma tutte le grandi città ripeto parliamo di grandi città hanno ormai un mercato immobiliare che è alle stelle vivere a Roma è la stessa cosa io e i miei che vivono in Puglia in un paesino chiaramente stiamo parlando di un paesino quindi i prezzi delle case sono totalmente diversi ma se già dal paesino mi sposto nella città vicina ovvero a Bari dove sono loro anche lì ti assicuro che le case costano tantissimo esattamente come Milano esattamente come a Napoli leggevo pochi giorni fa di un articolo di studenti a Napoli che si lamentavano proprio perché non riescono a trovare più stanze a meno di 500 euro a Napoli a Napoli ok altra città dove sono stati universitari quindi insomma assolutamente sì quindi capisci che è un problema anche lì che riguarda tutte le grandi città in Italia perché poi è un po' uno specchietto per le allodole perché poi che cosa succede tutti parlano di questa cosa degli affitti sempre in crescita ma nessuno parla mai dell'unico vero problema di questo paese e qual è gli stipendi ragazzi gli stipendi che sono rimasti fermi agli anni 90 mentre tutto nel frattempo è andato avanti alle stelle proprio direi cioè capisci cioè sono anche qui la narrazione è totalmente distorta perché ripeto non è che ci siamo svegliati oggi che Milano è cara lo è sempre stata ripeto a partire dai milanesi che andavano fuori in Brianza semplicemente la storia si ripeta è sempre stata la stessa si può fare qualcosa per ovviare certo assolutamente sì e si deve fare bisogna investire di più sugli abitazioni diciamo a canone concordato bravo che a Milano ci sono non sono così tante dovrebbero essere di più ovviamente per cercare di riequilibrare un pochino diciamo in parte cosa che non avverrà poi di fatto mai perché ripeto lo è sempre stata e come tutte le grandi città il mercato immobiliare è quello purtroppo io stesso faccio fatica a pagare l'affitto abbiamo avuto consigliari comunali che dicevano costa troppo lo sapevano dove andare a vivere a Milano però preferisco piuttosto vivere a Milano e avere tutto perché ci vivo bene perché sono innamorato lasciando da parte questo però perché ho una serie di servizi piuttosto che andare a vivere nel paesino e sicuramente spendere di meno poi è giusto che come si dice chi ha questa questa idea lo faccia ma non per questo devi denigrare l'intera città vuoi andare a vivere vai pure vai senti me l'hai messo da parte non perché parliamo anche del fatto che sei innamorato poi in un minutino non di più poi dobbiamo chiudere però tu sei innamorato di questa città e tutto questo amore passa anche in quello che fai tutti i giorni assolutamente quindi ritorniamo a Bomma invece sull'angelo Milano Segreta come possiamo fare appunto per contattarvi per trovarvi cosa avete pronto sul piatto magari in queste settimane queste settimane in quei prossimi mesi ci sono un sacco di percorsi nuovi che non vorrei neanche tanto rivelare diciamo che andremo a toccare dei quartieri se adesso abbiamo fatto alcuni quartieri di periferia adesso andremo a toccare i quartieri ancora più periferici ancora più periferici cioè stiamo parlando proprio fino a poi facciamo diventare Milano andiamo in Svizzera andiamo a fare no scherzo per me fai come quelli che dicono oh qui a Milano non funziona niente dove sei a Lugano ma come no no per carità no 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 sempre nel territorio di Milano proprio perché appunto cerco di trasmettere e di fare vedere proprio di un po' andare contro questa narrazione tossica e di fare vedere che se ci sono milioni di persone che ogni giorno si vogliono trasferire qui proprio per questo portando il mercato immobiliare alle stelle perché non ci sono più case la richiesta è altissima allora avrà pure dei pregi questa città quindi scopriteli con Angelo iniziamo a raccontarli esatto iniziamo a raccontarli e non ma questo vale per tutte le città non solo per Milano impariamo a raccontare più le cose belle a far sopraffare le cose brutte dalle cose belle e forse potremmo vivere un po' meglio chiedo domanda e allora questa domanda la lasciamo a voi la risposta grazie Angelo di essere qui con noi questa mattina grazie a voi rispondete a noi ma anche appunto potete seguire Milano Segreta su Instagram ad esempio ma anche su Facebook praticamente ovunque tranne che su TikTok mi hai detto no TikTok mi sono rifiutato mi sono rifiutato di farlo se ce l'abbiamo noi non ce l'ha lui penso a te come si è ammessi sono anti TikTok guarda la mia producer va bene Angelo grazie mille di essere qui con noi grazie a te grazie alla tua degna accompagnatrice Deva che è qui che è Scudinzona in studio siamo ben contenti di averla qui con noi buona giornata davvero portate i saluti anche a tutta la squadra di Milano Segreta che sono estremela numerosa sul pezzo come si dice in questi casi assolutamente andiamo con un po' di musica e poi torniamo qui per i saluti finali Footloose non si riesce a stare fermi quando senti questa canzone c'è poco da fare non si può stare fermi come anche noi che non possiamo rimanere fermi perché manca pochissimo alla fine di questa trasmissione prima di saluti finali prima ringraziare anche gli ospiti di oggi Angelo Mazzone davvero molto interessante l'intervista andatela a riprendere goodmorning.milano.it fra qualche ora lo troviamo su Beatrice in produzione che dicevo piano che non sono ancora pronta stai un attimo vai piano va bene Beatrice diamo tutto il tempo di fare tutti i lavori di redazione per poter mettere su la trasmissione sul sito goodmorning.milano.it andateci poco prima di pranzo sicuramente la trovate ma secondo me anche prima guardate che ragazza è molto molto sveglia è bravissima come bravissima sempre Fiorella Mannoia con l'ultima canzone appunto che si chiama Beatrice tu non farlo disobbedire 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata e anche di questa settimana di goodmorning.milano ebbene si arriva il weekend e quindi buon weekend a tutti gli amici di goodmorning.milano è quello che ci scrive Alberto al 3317853555 ricondividiamo gli auguri anzi anche a lei e famiglia come si dice in questi casi tanti tanti auguri e buon weekend a tutti quelli che ci stanno ascoltando beh anche auguri un po' speciali a quella di Bergamo che ho scritto prima che insomma si sta sposando e quindi chissà se si sta ascoltando a quest'ora io mi stavo ascoltando però ero io stesso effettivamente sì non ha senso quello che ho appena detto se anche voi invece volete continuare ad ascoltarci goodmorning.milano.it se invece non avete matrimonio a cui andare nelle prossime ore beh dopo di noi Ambrogio Curti consenti questa quindi potete tranquillamente ascoltare Ambrogio Curti le sue storie la sua musica le canzoni raccontate e gli aneddoti che ci sono dietro la grande musica internazionale e nazionale le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Eri B Angelo Mazzone Fabio Ranfi qui dietro al microfono in regia la produzione Beatrice buon weekend a tutti grazie mille a lunedì ciao 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 ciao